La Guardia di Finanza di Tessera ha scoperto 46 operatori di nolleggio irregolari all'aeroporto Marco Polo. Il controllo ha infatti riguardato il servizio di trasporto pubblico su strada non di linea che prevede di accogliere e accompagnare i passeggeri in arrivo o in partenza dallo scalo lagunare. I finanzieri su 150 controlli hanno accertato per 46 operatori, tutti sanzionati, numerose violazioni alla normativa di settore con irregolarità che spaziano da situazioni di totale abusivismo, riconducibili cioè a soggetti sprovvisti di autorizzazione ed abilitazione, ad altre che hanno riguardato conducenti autorizzati ma non in regola con le prescrizioni della normativa di settore. Tra i sanzionati c'è chi non ha mai compilato un foglio di servizio, chi tra la compilazione di un foglio e l'altro ha fatto passare mesi, chi tra il chilometraggio finale e quello iniziale dei due fogli di servizio consecutivi non ha saputo ad esempio spiegare come mai mancassero all'appello oltre 6.000 chilometri.